La comunità dei dioniani perde un valoroso sacerdote, un combattente, uno che si freggiava piacevolmente del titolo di prete di campagna. All'età di 91 anni si è spento l'indomito padre Civerra, fondatore dell'emittente Tredeon. Padre Giuseppe Civerra è un uomo eclettico, dinamico, maidomo, che attraversava indenne il passaggio degli anni. Un prete dal linguaggio semplice, concreto, diretto, le cui parole seguivano sempre i fatti. Un uomo dall'ingegno spiccato, acuto nelle opere e nel dialogo, puntava sempre in alto e i suoi obiettivi sono sempre stati lungimiranti. Da tutti è ricordato come un trascinatore di folle, un uomo carismatico, come pochi, devoto alla Madonna, come aveva affidato tutta la sua missione. Anche in quella che era, allora, una campagna sperduta in cui sorgeva un santuario, di cui pochissimi sapevano. I suoi aneddoti, ricchi di dettagli tanto strani da sembrare inventati, hanno scandito persino le sue omelie, che in tanti accorrevano ad ascoltare. Esperto di astronomia, aveva costruito con mezzi di fortuna un osservatore astronomico a Barba d'Angelo, sempre ad Andrea, che era ormai diventata la sua seconda terra natia dopo l'Emilia Romagna. Nella sua vita era stato anche un grande pittore. Ha viaggiato tanto ed è stato proprio lo spirito missionario che lo ha spinto, ad 82 anni, a partire in Albania, mettendosi nuovamente in gioco in una terra sconosciuta e lasciando così, dopo decenni, il suo amato santuario nella campagna andriese. E' qui che nel 1976 ha fondato Radio Cristus e il 3 maggio del 1978 dal santuario del Santissimo Salvatore ha acceso il primo segnale di Teledeon dal nome del fondatore della comunità dei deoniani, appunto Leone Deon, con un unico e solo scopo, raggiungere le persone ovunque si trovassero. Dall'ora è storia dei nostri giorni. Padre Civerra ha sempre vissuto tra la gente, aveva bisogno del contatto quotidiano con le persone con cui intesseva fitti dialoghi quotidiani. In tanti lo ricorderanno alle prese sempre con i lavori manuali. Armato di carriola e cemento non stava mai fermo, sempre pronto a intervenire laddove fosse necessario. Dopo un ictus devastante che lo colse proprio in Albania, la sua forza è sempre rimasta costante e dirompente. Si è spento nella casa di cura che lo accoglieva ad Arco di Trento. Le sue condizioni negli ultimi tempi si erano particolarmente aggravate.